Buongiorno, lunedì 30 gennaio, primo appuntamento di TVL con l'informazione, questo consueto appuntamento con la rassegna stampa per vedere quelle che sono le notizie più importanti sui giornali quotidiani nazionali per quanto riguarda la stampa online e invece i nostri riferimenti cartacei che sono la nazione e il tirreno per la cronaca locale. Andiamo subito allora a vedere quelle che sono le ultime notizie sui giornali online, c'è una notizia dell'ultima ora purtroppo che riguarda il Canada, un attacco terroristico sembra, un attacco terroristico così perlomeno le prime ipotesi, in una moschea in Canada, questa è la Repubblica.it, Canada spari in una moschea, sei morti tra i fedeli, scusate c'è un refresh del giornale, il premier Trudeau attacco terroristico ai musulmani, otto i feriti, due arrestati all'interno, decine di persone in preghiera, anche bambini. Lo scorso giugno era stata trovata una testa di maiale davanti all'ingresso, ovviamente era una minaccia da parte di qualcuno. Andiamo a leggere le prime righe dell'articolo sulla Repubblica, uomini armati hanno aperto il fuoco su decine di persone che erano all'interno del centro islamico per la preghiera della sera, otto i feriti, la polizia ha arrestato due persone, il premier Trudeau attacco terroristico contro i musulmani, Quebec City, sei persone sono state uccise, altre otto sono rimaste feriti in una moschea di Quebec City quando alcuni uomini hanno aperto il fuoco su decine di fedeli riuniti per la preghiera della sera, un'azione che il primo ministro canadese Justin Trudeau ha definito un attacco terroristico contro i musulmani, la polizia che indaga per terrorismo ha reso noto che due persone sono state arrestate e che nulla porta a ritenere che ve ne siano altre in fuga. E dunque questo è quanto avvenuto in Canada, a Quebec City, appunto si parla delle prime ipotesi di un attacco terroristico. Gli altri temi che sono, li vedremo nel corso della nostra rassegna stampa, che sono predominanti quest'oggi, sono oltre a questo attacco terroristico che sarà l'apertura di tutti i giornali online, anche la questione legata all'ultimo decreto firmato da Donald Trump, il nuovo Presidente degli Stati Uniti per quanto riguarda il veto nei confronti di alcuni paesi per quanto riguarda l'arrivo nei territori degli Stati Uniti e poi le primarie in Francia con la vittoria a sorpresa di Hamon, vedremo nei confronti di chi, e poi le vicende interne al Partito Democratico. Andiamo a vederle le altre notizie e poi torneremo ovviamente a parlare anche della questione legata all'attacco terroristico, Folla a New York, questo è quanto concerne sempre gli Stati Uniti, le vicende legate a quanto sta facendo Donald Trump, la protesta sedia la Casa Bianca, leader contro Trump, lui no al vostro caos, il vostro caos sarebbe al caos che in questo momento c'è nell'Unione Europea. i procuratori di 16 stati, stati in questo caso americani e degli Stati Uniti, bando incostituzionale. E poi ancora abbiamo detto delle primarie in Francia, ha vinto Hamon, il candidato socialista Valls perde primarie per la corsa all'Eliseo, l'ex ministro batte l'ex premier con il 58% dei voti. E quindi Francia, Hamon candidato socialista all'Eliseo, Valls battuto, l'ex ministro vince con il 58% dei voti la sfida delle primarie con l'ex premier, stasera la sinistra rialza la testa, sono le prime parole del vincitore delle primarie, Hamon stasera la sinistra rialza la testa, appunto è il virgolettato. Benoit Hamon saluta così i militanti radunati alla matualité, nel quinto a Rennes di Semain e a lui, 49 anni, il candidato del partito socialista all'Eliseo. Hamon trionfa nelle primarie con il 58% dei voti rispetto al 41% dell'avversario, Emmanuel Valls. L'ex premier è stato battuto con un largo scarto pagando l'eredità del suo governo e l'impopolarità di François Hollande. Valls ha augurato buona fortuna al suo rivale che con poco fair play l'ha interromto mentre stava salutando i suoi sostenitori. L'altra notizia invece che tiene banco sui quotidiani nazionali è la questione interna, le vicende interne al Partito Democratico e alla leadership dello stesso partito. e andiamo a vedere, scusate avevo, ecco vediamo di aprire l'articolo, la leadership che viene ora minacciata per quanto riguarda appunto il presidente Renzi, il presidente, il segretario scusate del Partito Democratico Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, viene minacciata appunto anche da Emiliano, che è il presidente della regione Fuglia. Caos PD dice la Repubblica, Emiliano attacca, congresso a tutti i costi, i renziani insorgano, regga lo statuto. Oltre che da Emiliano un inciso che facciamo è che la leadership di Matteo Renzi viene minacciata anche dall'altro candidato, il governatore della Toscana Enrico Rossi. Il duello sul voto anticipato, rilanciato dall'intervento di ieri di Renzi, infiamma il PD dice la Repubblica. Le parole di D'Alema nel lanciare una nuova fase che avvia l'ascissione e il suo neonato movimento consenso, elezioni, allora liberi tutti, oggi fanno ecco quelle del governatore della Puglia Michele Emiliano. Si può perfino arrivare alle carte bollate per obbligarlo a fare il congresso. Consiglio vivamente al segretario di iniziare immediatamente la procedura per il congresso, perché se non lo fa è in una tale difficoltà politica che rischia di uscire assolutamente azzerato come soggetto legittimato a guidare il partito. A quel punto aggiunge, mi auguro ci possa essere un'unica candidatura alternativa a quella del segretario uscente e se io capisco che questa candidatura può essere utile, incarnata da me, non ho nessun problema. Parole che hanno gettato benzina sul fuoco, raffica di repliche dalla compagine renziane che guida il PD e quindi c'è un po' di movimento, chiamiamolo così, all'interno del partito democratico per quanto concerne la prossima segreteria del PD. Allora noi torniamo a parlare dell'attentato che c'è stato in Canada attraverso le pagine del Corriere della Sera, Quebec City, Spari in Moschea, sei morti, trodo attentato e a musulmani. Vediamo allora come dice, come fotografa la notizia, la tragica notizia che arriva dal Canada al Corriere della Sera, due uomini hanno aperto il fuoco intorno alle 20, ora locale, all'interno dell'edificio, c'erano alcune decine di fedeli in preghiera, restati due sospettati. Due persone, dice il Corriere, hanno aperto il fuoco nella Moschea di San Foix a Quebec City in Canada intorno alle 8 di sera, ora locale, nella struttura che ospita il centro islamico della città erano presenti alcune decine di fedeli impegnati nella preghiera. Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia e forze speciali, oltre a numerose ambulanze. Il bilancio è di sei morti e otto feriti, le vittime sono uomini fra i 35 e i 70 anni, due persone sono state arrestate dopo un inseguimento terminato vicino all'Ide d'Orleans. Ci sarebbe ancora una persona in fuga e queste sono alcune delle immagini che arrivano dal Quebec e che sono state riportate dal Corriere. Le testimonianze, why is this happening here, this is barbaric, perché sta succedendo qui un atto barbarico, è lo sfogo del Presidente della Moschea, Mohamed Yangui, che al momento dell'attacco non era all'interno. Secondo l'esponente del centro islamico, i feriti sono stati portati in vari ospedali della città. Intanto la zona è stata circondata da polizie e forze speciali che hanno messo in sicurezza tutta l'area. Gli assalitori hanno fatto eruzione al primo piano dell'edificio destinata alla preghiera degli uomini, mentre donne e bambini si trovavano al primo piano. Probabilmente c'è un errore, saranno stati al piano terra perché gli uomini erano al primo piano. Secondo informazioni non confermate, gli assalitori arrestati avrebbero 27 anni e utilizzato un fucile AK-47 e questo è dunque quanto riportato dal Corriere della Sera. Andiamo invece sempre parlando dell'attentato in Canada. Ovviamente le aperture, come detto, sono tutte su questa notizia dell'attacco terroristico di ieri sera, ora locale alla moschea in Quebec City. Canada, dice il Fatto Quotidiano, spari in moschea, sei morti, otto feriti. Trudeau, attacco terroristico contro musulmani, un commando ha aperto il fuoco attorno alle 20 ore locale nel centro culturale islamico di Quebec City. Polizia, per quanto riguarda la polizia, sono state arrestate due persone. Il premier, violenza insensata, diversità e tolleranza religiosa, la nostra forza. Questa è la parola del premier canadese. Un commando ha aperto il fuoco sui fedeli riuniti in preghiera, dice l'articolo del Fatto Quotidiano, la preghiera della sera nel centro culturale islamico di Quebec City. Sei persone sono rimaste uccise, altre otto ferite. La polizia ha reso noto che due persone sono state arrestate e che nulla porta a ritenere che ve ne siano altre in fuga. Le forze dell'ordine non hanno ancora fornito alcuna motivazione dell'attacco, ma il premier, Justin Trudeau, ha parlato di attacco terroristico, violenza insensata, diversità e tolleranza religiosa, nostra forza. Come vedete sono abbastanza simili tutte le aperture e le dichiarazioni in questo momento dei maggiori quotidiani nazionali su quello che è avvenuto in Canada. Andiamo anche sulle pagine dell'avvenire. Canada, sparatoria in Moschea, sei morti a Quebec City, otto feriti, due persone sono state arrestate. Il primo ministro Trudeau, attacco terroristico contro i musulmani. E qui vediamo una foto proprio della zona della Moschea. Sei persone sono state uccise in una sparatoria nella Moschea di Quebec City, altre otto sono rimaste feriti. La sparatoria è avvenuta nella sezione maschile della Moschea. Le vittime sono tutte di sesso maschile e si teme che ci possano essere dei bambini. Il presidente del centro ha aggiunto che non si trovava nella Moschea al momento dell'attacco, ma ha potuto fornire alcuni dettagli che gli sono stati raccontati da persone che hanno assistito alla sparatoria. Un gruppo stimato fra le 60 e le 100 persone si trovava verosimilmente all'interno del centro. Siamo rattristati per le famiglie, ha detto. Le autorità non hanno confermato il numero dei morti. Il portavoce della polizia, Pierre Poirier, ha annunciato che due sospetti sono stati arrestati. La polizia ha poi assicurato che la Moschea è stata evacuata e la situazione è sotto controllo. Questo è quanto riportato dai maggiori quotidiani nazionali. Come vedete le notizie sono più o meno le stesse da parte di tutte le testate giornalistiche nazionali. Sono le prime notizie arrivate. Stavo guardando anche la mia ignoranza su quello che è l'orario, la differenza del fuso orario rispetto al Canada. In questo momento sono le 3.42, ora sono le 9.42, ci sono 6 ore indietro e quindi il fatto è avvenuto, erano le 20 nelle prime ore di questa mattina, ora italiana. Le altre notizie abbiamo detto che tiene banco Trump con le vicende legate all'immigrazione, poi le primarie della sinistra francese e poi ancora le vicende legate al Partito Democratico. Andiamo a vedere quali sono ancora le reazioni ai provvedimenti di Donald Trump legate all'immigrazione. Gli Stati Uniti, sempre il Corriere della Sera, 16 Stati si ribellano la restrizione ai migranti islamici volute da Trump, scoppia la protesta negli aeroporti. Il Presidente ha disposto una serie di restrizioni per gli accessi, sospesi per 3 mesi da Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen. Dalla Casa Bianca nessun effetto per chi ha la green card. I procuratori generali di 16 stati attaccano il provvedimento. Qui si vede una fotografia di protesta. We are America, noi siamo l'America e vediamo anche delle facce non proprio native americane che comunque sono americane a tutti gli effetti che protestano sui provvedimenti. 16 stati si ribellano e dicono no alle restrizioni per i cittadini islamici volute da Trump dopo la protesta pubblica negli aeroporti e fino alla Casa Bianca. I procuratori generali di 16 stati americani tra cui California, New York e Pennsylvania hanno emesso una dichiarazione congiunta con cui condannano l'ordine esecutivo del neopresidente che limita gli accessi all'immigrazione da 7 paesi islamici. Ci siamo impegnati a lavorare per garantire che il minor numero possibile di persone soffrano per questa situazione caotica, si legge nella nota. È il secondo muro di Trump dopo quello a confine con il Messimo è scattata la disposizione per tenere lontane dagli USA potenziali terroristi islamici. Sul Fatto Quotidiano abbiamo appena parlato dell'attentato in Canada e andiamo invece a vedere una lettura diversa di quella che è la lotta interna invece al Partito Socialista per le primarie che si sono svolte in Francia. Hamon vince le primarie dei socialisti contro Valls, lo schiaffo degli elettori al partito e la svolta a sinistra. Il candidato che rappresenta l'ala più polemica del Partito Socialista ha battuto l'ex primo ministro ed ex titolare agli interni al voto tra 1,7 e 2 milioni di persone, in aumento rispetto al primo turno ma in forte calo rispetto alle consultazioni del 2012. Ha vinto la svolta di sinistra, ha perso il socialismo di governo e soprattutto ancora una volta quello del Presidente della Repubblica uscente François Hollande secondo i primi risultati Benoit Hamon ha battuto al secondo turno delle primarie e l'ex ministro dell'interno Manuel Valls con il 58,65% delle preferenze contro il 41,35% e sarà il candidato del Partito Socialista alle presidenziali del prossimo, non è ovviamente dell'aprile 2016 ma è dell'aprile prossimo. Ancora dal Fatto Quotidiano andiamo a leggere l'ultima notizia per quanto concerne le polemiche legate al leadership del partito in questo momento di Matteo Renzi, segretario del PD. Vediamo se riusciamo ad aprire l'articolo del Fatto Quotidiano altrimenti andiamo oltre. Vediamo se ci possiamo tornare dopo. L'apertura è sempre per la sparatoria in Moschea in Canada, sei morti a Quebec City e poi le parole del Papa all'Angelus, il Papa affidiamoci a Dio con l'umiltà dei poveri in spirito. E questo dunque quanto si legge nelle pagine. Ecco finalmente abbiamo aperto l'articolo del Partito Democratico nel Fatto Quotidiano, un po' di difficoltà anche per leggere le vicende che ci sono all'interno del partito. PD, i sindaci del partito chiamano al voto, Matteo torni e finisca il lavoro. Il responsabile antilocale del partito, Matteo Ricci, quel 40% che ha creduto nelle riforme, è spaisato e vede in Renzi l'unico interprete per far partire una stagione di riforme e cambiamenti. La sensazione è che ci sia ancora un mondo compatto intorno a Matteo Renzi, magari non più così numeroso come tre mesi fa, ma solido. A Rimini, dove si tiene l'assemblea degli amministratori locali del Partito Democratico, sembra di assistere più che mai a un raduno del partito renziano. Ci sono tutti i suoi fedelissimi, Matteo Richietti, Dario Nardella, Francesco Bonifazi, Deborah Serracchiani, Ernesto Carbone, Stefano Bonaccini, Matteo Orfini. Il PD, almeno quello conosciuto finora, è diviso. Una parte si è riunita a Roma con Massimo D'Alema. Parola ed ordine, voto subito e valorizzazione delle esperienze locali. Di autocritica per quella sconfitta di meno di un mese e mezzo fa al referendum costituzionale, neppure l'ombra. E va bene, poi ci sono altre considerazioni che lasciamo stare. Per venire invece alla cronaca locale, che apriamo invece con una notizia appunto di cronaca, un incidente stradale che è avvenuto nella notte intorno a un quarto all'una a Montecatini, in via Cividale. Un motore, un motore lo definisce un mezzo, un motorino, è finito contro un'auto in sosta. Un uomo di 30 anni è la vittima, è stato soccorso dall'automedica di Montecatini insieme a un'ambulanza e i suoi volontari e il codice con i quali sono intervenuti i soccorsi è in codice rosso, quindi le condizioni non sono lievi, anzi le condizioni sarebbero gravi. È stato trasportato al pronto soccorso di Pescia, dopodiché è stato deciso il trasferimento all'ospedale Lescotte di Siena nel reparto di neuro-rianimazione. Ovviamente se avremo ulteriori aggiornamenti su quanto avvenuto a Montecatini nel corso delle prossime edizioni del telegiornale ve le forniremo. Andiamo sulle pagine locali invece con la Nazione Tirreno, aprendo proprio con la Nazione, la pagina nazionale che apre ancora con le vicende legate alle questioni USA, rifugiati, Trump assediato, stop ai profughi, migliaia di manifestanti davanti alla Casa Bianca, giudici in campo, il Presidente, il bando durerà solo tre mesi e apre al Green Card. Il bando si riferisce al divieto di arrivo da parte dei residenti in quegli stati che sono appunto quelli che vi abbiamo elencato prima. La fotonotizia invece è sul dibattito che c'è, in realtà è diverso tempo che c'è questo dibattito, ma sta tornando nuovamente all'onore delle cronache, il piacere nelle case, ovvero la riapertura delle case chiuse, l'inchiesta, quante sono le prostitute, il business, i clienti, PD e Lega e Grillini, ecco le loro proposte per regolarizzarle. Sembra che ci siano da parte delle forze politiche in modo trasversale la volontà o perlomeno la non chiusura, scusate il gioco di parole, ma è voluto, la non chiusura alla riapertura delle case chiuse. In taglio alto sulla Nazione, Montecatini, assalto abitazione, cani fermati con lo spray e poi l'azienda in crisi per i danni dei cinghiali devastati, vivai vigneti e coltivazioni. Questa è la denuncia della Coldiretti di Spalla, Bertinotti gioco dell'oca, PD senza pace, Emiliano lancia la sfida a Renzi. E invece andiamo proprio sulla pagina locale di Pistoia e Montecatini della Nazione, l'abbiamo visto proprio sulla pagina nazionale, vivai vigneti e campi flagellati, aziende in crisi per i cinghiali, nuova allarme di Coldiretti, ma ora la caccia selettiva sarà più lunga, il 40% della superficie agroforestale dovrebbe essere tutelato, invece gli ungolati sono ovunque. Di Spalla, ancora la cronaca, Montecatini assaltano abitazioni, cani fermati con lo spray e noi andiamo invece nelle pagine interne a pagina 2, dove si parla di ospedali. È un tema molto ricorrente, purtroppo non sempre per situazioni positive. 4 ospedali nuovi e costosi, ma i posti letto sono insufficienti. Lettera al Governatore Rossi dopo il caso di Quarrata, servizi per pochi. Nessuno dei nuovi ospedali ha trovato un posto nel reparto di rianimazione per accogliere una paziente grave proveniente da Pistoia. A scrivere una lettera indirizzata proprio al Governatore Enrico Rossi è un cittadino di Quarrata, Simone Agostini, nostro lettore della Nazione che tra l'altro conosceva Dora Pacini Magni, la donna di 86 anni che lo scorso 17 gennaio è deceduta all'ospedale di Pontremoli in provincia di Massacarrara, dove era stata trasportata in ambulanza dall'ospedale San Jacopo di Pistoia in condizioni gravissime. Gli ospedali, ovviamente i 4 ospedali a cui si riferisce l'articolo sono quelli costruiti negli ultimi anni tra Lucca, Massacarrara, Pistoia e Prato e nessuno di questi è riuscita ad ospitare la donna di Quarrata. Gli interrogativi, 4 nuovi ospedali della Toscana non riescono a rispondere alle necessità dei cittadini? Lo confermano le lamentelle, il governatore Rossi ci dia una spiegazione e l'appello da parte proprio dei cittadini. Volantinaggio davanti alla San Jacopo, arriva la Digos, una vicenda che è avvenuta proprio davanti all'ospedale Pistoiese, volantinaggio complicato qualche giorno fa per l'osservatorio Sanità Pistoiese, l'associazione stava consegnando davanti al San Jacopo informative in cui denunciavano i tagli alla sanità, stavano denunciando in modo molto civile, portati avanti dalle istituzioni regionali ma dopo la segnalazione della direzione sanitaria il comitato è stato invitato ad andarsene dalle forze dell'ordine intervenute sul posto a denunciare all'episodio EAVC, alleanza beni comuni di Pistoia, alcuni vigilantes sono intervenuti per far cessare la diffusione del volantino. La cosa si è aggravata quando è stata chiamata la Digos che ha richiesto documenti ai presenti, documenti che sono stati restituiti solo dopo un'ora, questo è un attacco alla libertà di espressione di liberi cittadini, chiediamo al sindaco di Pistoia di prendere una posizione in merito e questo è quanto denuncia l'associazione ABC. è proprio di sindaco, andiamo a parlare del sindaco Bertinelli, andiamo a parlare a pagina 3, è pronta la missione a Bruxelles, è in viaggio appunto verso la capitale europea, Pistoia vuole conquistare l'Europa, domani il sindaco promoverà la città nell'anno più importante, ovviamente l'anno più importante è il 2017 per quanto concerne Pistoia, capitale italiana della cultura. La giornata, vertice col commissario UE alla cultura e altri politici in serata, uno spettacolo. Assessore regionale parlamentare Bertinelli viaggerà con l'assessore alla cultura della regione Monica Barni e la parlamentare europea Silvia Costa, un'occasione per far conoscere il territorio. Dalle vicende pistoiesi a quelle invece Monte Catinesi, per Gigi Proietti altri ascolti super, sapete che in queste settimane Gigi Proietti è protagonista al Teatro Verdi di Montecatini con la sua trasmissione Cavalli di Battaglia, che è una trasmissione che viene trasmessa su Rai 1 in prima serata, il sabato sera. Per Gigi Proietti dicevamo, anzi lo diceva la Nazione, altri ascolti super, è stata una puntata molto termale. Domani sera al Teatro Verdi verrà registrata la serata straordinaria, questa stasera serata con incasso devoluto alla Fondazione Radiologica del Professor Livi e qui vediamo, anzi l'avete appena visto, intravisto, Gigi Proietti comunque protagonista di queste serate Monte Catinesi e come dice la Nazione molto termali. RC Auto sempre da record, invece il titolo del terreno, un'apertura diversa, Pistoia e Premi restano al top anche se con un calo del 7%, invece la fotonotizia è per una vicenda legata al freddo, termosifone in tilta, nella Casa Popolare si vive con il piumino in taglio basso, Monte Catini in cerca di futuro, dai fasi della bella epoca alla crisi di oggi la Regione vuole vendere. La notizia riportata da tanti giornali anche dal terreno di spalla a giudice blocca al divieto di Trump, americani in piazza sono le vicende legate ai provvedimenti degli Stati Uniti, del nuovo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dicevamo sulla cronaca locale, questa volta si legge l'articolo dal terreno della pagina di Pistoia, i vivaisti snobbano il bando per curare le rotatorie comunali, solo due aziende sulle 11 necessarie rispondono all'appello. Presidente Mati, costi elevati e nessun ritorno di immagine. Ma cosa dice il Presidente dell'Associazione Vivaisti Pistoiesi? Secondo Francesco Mati, scusate, il Presidente del distretto Floro Vivaistico di Pistoia, l'assegnazione delle rotonde alle aziende vivaistiche è una formula che non funziona a causa dei costi molto alti della gestione a verde e dove il ritorno di immagine è inesistente. Il problema del verde in città non si risolve con l'assegnazione delle rotonde, serve una pianificazione chiara per il territorio. Al bando sono presentate solo due aziende, dicevamo l'Innocenti e Mangoni Piante per la rotonda di Via Toscana e la Zelari Piante per la rotonda della Vergine. In taglio basso prese d'assalto le piste di Abetone, ma a causa di un cantiere il viaggio di ritorno per alcuni diventa un'odissea, quindi dopo i piaceri delle sciate, i dolori del ritorno. Chiudiamo con lo sport, la nazione nel quest sport con in primo piano il basket e il calcio. Veflex, Brindisi Amaro sconfitta al photo finish. Noi invece andiamo nelle pagine interne della nazione, io mi sono ovviamente messo delle segnalibri, in questo caso dei segnalibri, in questo caso dei segnalibri. Pistoese pari miracolo a Pontedera e si parla di calcio, in 10 recupera due volte lo svantaggio, zampata di Minotti in zona Cesarini. Clamorosa occasione sprecata dai padroni di casa che si fanno raggiungere, ma da parte Arancione è stata una prova di grandissimo carattere. Le dichiarazioni dei due allenatori, Remondina esagerata all'espulsione, Indiani è l'allenatore del Pontedera ex Arancione, Paolo Indiani, gettiamo al vento troppi punti. Chiudiamo invece con il basket, un titolo molto simpatico da parte della nazione, andiamo a vedere la pagina, anzi le due pagine dedicate al basket, usate ve lo allargo un attimo l'inquadratura per leggere il titolo. Pistoia giocava con Brindisi, per un punto niente, Brindisi, molto bello il titolo della nazione. Adesso il calendario prevede un doppio turno casalingo, al Palacarrara arriveranno Sidiga Savellino e Pasta Reggio Caserta. Gran primo tempo dei biancorossi, manca il colpo del KO, Veflex ha avuto 11 lunghezze di vantaggio nel finale, il fallo sistematico premia i pugliesi. Il risultato alla fine ha premiato appunto il Brindisi che ha vinto 86-85. Chiudiamo con le dichiarazioni di Esposito e poi di Lombardi, la delusione di Esposito è la miglior partita esterna, complimenti ai ragazzi e poi Eric Lombardi. È stata una gara sfortunata, abbiamo giocato con grande energia e determinazione per 40 minuti. E quindi queste sono le notizie più importanti sia dei quotidiani nazionali che dei quotidiani online. Vi ricordo la notizia di apertura di tutti i quotidiani online, quotidiani nazionali sull'attentato che c'è stato in Canada, un attentato molto probabilmente da quelle che sono le prime dichiarazioni, un attentato terroristico alla moschea di Quebec City. Ci sono stati sei morti, ma abbiamo un aggiornamento, abbiamo aperto il Fatto Quotidiano, se vogliamo tornarci un attimo sulla pagina del Fatto Quotidiano, se la regia mi riporta la pagina, eccola, c'è un aggiornamento, spari in moschea, sei morti, otto feriti, Trudeau attacco terroristico contro musulmani, quindi i feriti sono saliti a otto e comunque ci sarà l'opportunità anche nelle prossime edizioni di aggiornare su quanto è avvenuto appunto in Canada. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.20 con il telegiornale. Grazie di averci seguito, a più tardi.